Due passi indietro resta qua con me perché faccio entrare il resto della giuria e quindi Egidio Calisi, Luana Petrucci, Gabriele Villa, Simona Petrucci, Thomas Debellis e Michele Trotta tutti su dai veloci 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 eccoli grande l'applauso perché sono qua perché stiamo quasi per darvi e dai forza questo applauso su e tutti insieme oh così allora eccoli qua salgono tutti i nostri ragazzi tutti i nostri cantanti veloci eccoli qua sono loro tutti i concorrenti di questa sera sono 20 ne avete ascoltati 20 eccoli qua sono qua sono bellissimi sono emozionatissimi anche perché tra pochissimo come a scuola ragazzi quelli piccoli davanti quelli alti dietro ecco e ci sta raggiungendo anche la nostra splendida Susanna e ovviamente anche Loris Guidoni siamo pronti guardate che bel colpo d'occhio che ci abbiamo qua allora Simona Petrucci vieni un attimino qui categoria 7-9 anni apriamo sta busta ragazzi troppe cose con 57 voti vince questa terza selezione di piccole stelle cantano Eva Ardovini wow complimenti un applauso forte 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 foto ricordo con Eva brava scusate gli posso far dire una cosa allora Eva spiega perché dovevi essere la prima ad aprire la selezione e hai cantato per ultima nel primo blocco che cosa è successo stasera? mi sono persa si è persa per San Felice e che cosa facevi tu da navigatore a mamma? chi era più agitata? te o mamma? mamma dai un applauso ad Eva forza vai Gabriele Gabriele Villa vieni qua con me vieni ho visto poco stabile sei mi dica mi dica mi dica allora apriamo la busta da 10 a 12 anni apriamo la busta da 10 a 12 anni io ora che significa 60 più? che è? tipo il bollino della io mi attengo alle discussioni allora con 60 voti più vince questa terza semifinale Gianmarco Gridelli vieni Gianmarco eccolo qua foto eccolo eccolo foto foto Gianmarco Gridelli di tutto quello che sai dai emozionato contento contentissimo anche noi bravo Gianmarco vai andiamo con grazie a tutti bravo vedi che spontaneo è la spontaneità che premia assessore Galisi e genio Galisi apriamo la busta terza categoria tredici sedici anni con cinquantotto voti vince Sara Smith eccola wow incredibile allora intanto grande l'applauso a tutti loro adesso ci saranno tutte le foto io volevo ringraziarvi per essere stati con noi vi diamo appuntamento alla prossima selezione la quarta di piccole stelle cantano venerdì 26 agosto in quella di Ferentino grazie a tutti buonanotte grazie sigla regia grazie 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 grazie